Ciao Diego, ci vedremo Ecco il passione di pazzare Ciao Diego, ci vedremo Dov'è che vi... No, no Ho capito che vi ho corneredo Ma qua... Dragon Party Dragon Party e dove in una camera? 4 4, cos'hai nella camera? Aerea condizionata E là? Ma il tipo se devi lavorare Io non ci ho acceso perché dovevo lavare le montagne Sciali Va bene, ciao